Eccoci, buonasera, il telegiornale partirà con il vertice che è in corso a Bruxelles ed è il più spaccato dei vertici degli ultimi tempi. Il tema è quello della possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma c'è anche quello dei migranti e il terzo, che per noi è, come si sa, cruciale, quello delle banche. Ma sui migranti vedremo, c'è anche una duro botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Austria. È illegale, si ricorda da Bruxelles al governo di Vienna, è illegale fare tetti sul passaggio di persone all'interno della Unione. Ebbene, dall'Austria, da Vienna si risponde o tetti o niente, o chiudiamo. Non è sostenibile la situazione. E qui vacilla ancora più pericolosamente Schengen. Sappiamo benissimo che anche i valichi e i posti di confine tra l'Austria e l'Italia sono stati in parte chiusi, nel senso che ci sarà un maggiore settaccio, un settaccio che secondo Schengen non ci dovrebbe essere. Ma vedremo che poi, da parte dell'Ox, un'altra organizzazione internazionale, si ridimensiona e molto la crescita dell'Italia per quest'anno. Non più l'1,4, ma una stima che viene rivista a ribasso all'1%. Dalla Corte dei Conti intanto luci e ombre su come è stata affrontata la spending review da parte del governo Renzi. E a proposito di politica, due sono i fatti. Ancora la Cirinna, la legge che il PD ha tentato di fare al Senato sulle unioni civili che, come si sa, è ferma i box dopo quello che è successo nei giorni scorsi. La stessa Cirinna accusa all'esterno e all'interno del suo partito e la situazione è ancora molto magmatica. Mentre si riapre con forti turbolenze la partita nel centro-destra sul candidato sindaco di Roma, Bertolaso. A quanto pare non piace più a Salvini. È un vertice salta oggi a Roma. La Meloni si indispettisce. Berlusconi lo rinvia. Ma vedremo anche, proprio perché abbiamo parlato di Roma, una situazione devastante proprio nel cuore della città durante il Giubileo. La stazione Termini, la documentazione dell'Unicef che domani sarà raccolta dall'Espresso sui ragazzini, bambini praticamente che vivono nel sottosuolo della stazione Termini e che si prostituiscono. Ma vedremo anche due notizie forti che riguardano l'America. Molto forti, storiche. Una, la visita tra un mese, il primo giorno di primavera, di Barack Obama a Cuba. La prima di un presidente americano dopo 88 anni che suggella quindi il riavvicinamento tra Washington e Lavana. E poi il durissimo scontro indiretto, pensate, tra il Papa e Donald Trump. A precise domande il Papa ha detto che non è un cristiano, colui che teorizza la costruzione di muri contro gli altri esseri umani. E Trump accusa il Papa di essere politicizzato e dice in tono minaccioso e sicuramente non benaugurante che quando l'Isis attaccherà il Vaticano il Papa sarà contento che nel frattempo un uomo come Trump sarà stato eletto alla Casa Bianca. Questo è altro, 30 secondi, i titoli. A Bruxelles l'Unione Europea cerca un difficile, in questo momento problematico, compromesso per evitare l'uscita della Gran Bretagna. Vertice è ancora più decisivo nella giornata di domani. O la va o la spacca. Non c'è altra scelta che trovare un accordo, ha detto Tusk, presidente del Consiglio Europeo. Gli altri temi sul tavolo, banche e profughi. E sui profughi è strappo dell'Austria proprio nei confronti dell'Europa. Vienna respinge al mittente la lettera di Bruxelles. Il tetto sul numero di profughi resta, così come il blocco ai confini, dice il cancelliere. Bruxelles aveva intimato di togliere il limite, considerato illegale. Renzi è chiaro che l'accordo di Dublino è fallito. Economia e conti, buone e cattive, soprattutto notizie per il governo. L'Ox rivede al ribasso il nostro PIL per quest'anno. La ripresa mondiale rallenta, l'Italia crescerà solo dell'1%, invece che dell'1,4% delle precedenti previsioni. E la Corte dei Conti dà atto di una serie di sforzi fatti, ma sulla spending review ci doveva essere più razionalità e non basta, soprattutto per gli effetti sui cittadini. Il PD tenta di ricompattarsi dopo la due giorni in Senato che ha portato all'ampasse sulle unioni civili. Indice puntato sulla relatrice della legge, la Cirinà, che ha attaccato la componente cattolica del partito. Caos intanto nel centrodestra, retromarcia di Salvini sulla candidatura di Bertolasio a sindaco di Roma. Voglio prima ascoltare i cittadini, arrabbiatura della Meloni che fa saltare il vertice di oggi con Forza Italia e Lega. Sono decine, minorenni, migranti, arrivati in Italia senza famiglia, per la legge sono dispersi. Ma nella Roma del Giubileo, che si avvia un'infocata campagna elettorale per avere un nuovo sindaco, vivono nascosti nelle fogne sotto la stazione Termini, si prostituiscono e rubano per sopravvivere. Le loro storie sciocche in una video inchiesta dell'Unicef per l'Espresso. Dopo 88 anni, un presidente americano in carica sarà in visita ufficiale a Cuba. L'annuncio della Casa Bianca, il viaggio di Obama, si terrà il 21 e il 22 marzo. Immediata reazione dei candidati repubblicani Cruz e Rubio, entrambi di origine cubane, che parlano di un errore. Cuba è ancora una dittatura, dicono. Incredibile, batti becco a distanza tra Papa Francesco e Donald Trump, candidato alle primarie repubblicane per la Casa Bianca. Se si vuole costruire un muro tra gli Stati Uniti e il Messico, chi lo teorizza non è un buon cristiano. I cristiani fanno ponti e non muri, dice il pontefice sul volo che lo ha riportato in Italia dal Messico. Ma Trump gli ha risposto irritualmente per le rime. Il Papa fa politica, le sue parole sono vergognose. Buonasera, quindi come avete visto molte notizie importanti e soprattutto in corso una due giorni cruciale a Bruxelles per le sorti dell'Europa. Uno spettro si aggira per l'Europa ed è l'Europa stessa, ma azzoppata, ovvero senza la Gran Bretagna. E per evitare questo scenario da incubo, la cosiddetta Brexit, che solo qualche anno fa sembrava inimmaginabile, che i capi di Stato e di Governo dei 28 Paesi dell'Unione sono barricati qui dentro dalle 17 di oggi pomeriggio. Nel Consiglio europeo forse è più difficile della storia del vecchio continente. Il Presidente Tusk, infatti, è stato più che chiaro poco fa. Questo è un vertice o la va o la spacca, ci ha detto entrando. Obiettivo dei leader è trovare un accordo che convinca tutti per riformare e migliorare l'Unione europea, senza però toccare i trattati, sarebbe troppo complicato, in modo da evitare che la Gran Bretagna esca dal gruppo. Dunque, di fatto, cercando un compromesso sulle richieste di Londra, che riguardano immigrazione, sovranità nazionale, eurozona e competitività, anche se in realtà dietro c'è molto di più. In ballo è in gioco, infatti, la filosofia stessa dell'Europa, la sua unità, perché se i Parlamenti nazionali, per esempio, come prevede la bozza che circola ma che non è ancora stata pubblicata, potranno addirittura chiedere la revisione di una proposta legislativa della Commissione europea, è evidente che l'iter europeo perderebbe molto del suo potere. Non a caso, infatti, sono molti i Paesi ad essere perplessi. Anche se, alla fine, a dire la verità, l'impressione è che un accordo verrà trovato, persino il riluttante Hollande si è detto pronto a un compromesso, perché, diciamoci la verità, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea non converrebbe a nessuno, in primis a Londra, che perderebbe sovvenzioni economiche, la possibilità di avere voce in capitolo su temi cruciali, senza considerare che il 44% dell'export britannico è destinato proprio all'Europa, e dunque starne fuori non sarebbe conveniente. E l'Unione europea perderebbe la sua seconda economia, è un Paese che sostanzialmente ha garantito stabilità politica e economica per tanti anni. Insomma, tutti si augurano che questo accordo venga trovato, c'è tempo fino a domani, anche su un altro tema, un tema cruciale, caldissimo, importante, quello della gestione dei migranti, sul quale è tornato, proprio al suo arrivo, il Presidente del Consiglio Renzi. Dublino è fallito, Dublino ha fallito, è sotto gli occhi di tutti, che poi ci siano alcuni colleghi che per motivi comprensibili interni vogliono dire il contrario, questo sta nelle regole della politica, ma il dato di fatto è che oggi il Consiglio europeo e nei prossimi Consigli europei, perché questa storia della migrazione la vedrete anche al prossimo Consiglio europeo, la vedrete a quello di giugno, per anni si è fatto finta che non ci fosse, si è pensato di nascondere la polvere sotto il tappeto. Adesso vediamo che invece è una priorità. E la questione dei migranti provoca una durissima spaccatura dentro all'Europa, riguarda anche l'Italia, perché riguarda i confini con l'Austria. Una vera e propria sfida, incandescente, perché la bomba è esplosa alla fine tra Unione europea ed Austria, inevitabilmente dopo la chiusura dei suoi valichi d'ingresso. Il commissario Avramopoulos ha scritto oggi al ministro dell'interno austriaco, signora Leitman, sollevando due precise preoccupazioni. L'introduzione effettiva di regole nuove sui transiti, le quote sulle accoglienze. Di fatto atteggiamenti fuori dalle regole comunitarie, le quote anzitutto incompatibili con legge e filosofia dell'Unione, l'Austria, come tutti, ha l'obbligo legale ad accettare qualsiasi richiesta di asilo le venga rivolta. Ma sempre Avramopoulos aggiunge, voler transitare in un paese dell'Unione da cui raggiungermi un altro, sempre dell'Unione dove chiedere asilo, non è ragione accettabile per ottenere l'ingresso. In questo caso in Austria, chi ha bisogno di protezione in principio può e deve chiedere asilo al primo paese comunitario raggiunto e qui torna la questione Dublino, che a noi è tanto cara. Vienna risponde, con altrettanta durezza il blocco ai confini resterà, perché chiarisce il Premier Feynman, dopo 100.000 ingressi è inaccettabile che si possa continuare così. Non posso dire al popolo austriaco che questa situazione è destinata a ripetersi. Non siamo stati affatto egoisti, aggiunge, non abbiamo detto cada tutto sulle spalle di Roma e d'Atene, ma l'Austria non è la soluzione. Ora aspetta l'Unione Europea trovare una via d'uscita. Insomma, il caso Austria era inevitabile, divenisse esplosivo. In poco più di 24 ore lo strappo di Vienna non è ancora tale, sino in fondo, ma rischia di creare problemi più che seri all'intera mobilità comunitaria. È lo spettro della fine di Schengen che rieppare. Per questo forse la lettera del greco Avramopoulos si conclude con un laconico invito al governo austriaco. Riconsiderate quanto prima le misure unilaterali che avete proposto. E un'altra organizzazione internazionale, l'Ocse, ci dà una secchiata d'acqua gelida o perlomeno fredda. Non più la crescita all'1,4% per quest'anno, si stima per l'Italia. Si ridimensiona a un 1% tondo. L'Italia nel 2016 crescerà molto meno del previsto. Parola di Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha virato oggi decisamente in negativo le previsioni fatte appena tre mesi fa. La stima della crescita del PIL italiano è stata tagliata dello 0,4%. Secondo l'organizzazione basata a Parigi, infatti, il nostro prodotto interno lordo crescerà al massimo dell'1%. Resta confermata, ma a questo punto è meglio dire per ora, la stima di un più 1,4% nel 2017. Non è solo l'economia del nostro paese ad essere stata ridimensionata, c'è stato un calo generale. La crescita mondiale arriverà nel 2016 al 3% e nel 2017 al 3,3%. In entrambi i casi con un ritocco a ribasso dello 0,3%. Male anche le stime dell'eurozona all'1,4% nel 2016 e all'1,7% nel 2017, rispettivamente meno 0,4% e meno 0,2% rispetto alle previsioni precedenti. Per l'Italia questi dati, se confermati e le opposizioni oggi non hanno mancato di sottolinearlo, lanciano un'ombra pesante sui calcoli del governo, i calcoli sulla nostra crescita, ai quali è appesa la speranza che la legge di stabilità riesca a passare l'esame ormai imminente di Bruxelles. E sulla corrispondenza dei nostri conti pubblici con le richieste di Bruxelles è intervenuto oggi anche il Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. I margini di flessibilità acquisiti in sede europea sono già stati sfruttati totalmente nel 2016, ammonisce Squitieri, e sarà difficile ad esempio sfruttare la spending review per eventuali aggiustamenti, perché ulteriori margini sulle spese potrebbero rivelarsi limitati. Spending review che, secondo il capo della magistratura contabile, ha portato sì negli ultimi anni ad importanti riduzioni della spesa in termini assoluti, ma, dice Squitieri, nonostante l'apprezzamento per questo aspetto, si può parlare di un parziale insuccesso. Il contributo al contenimento della spesa non è più solo riconducibile ad effettivi interventi di razionalizzazione e di efficientamento di strutture e servizi, quanto piuttosto ad operazioni assieme nominate di contrazione, se non di soppressione di prestazioni rese alla collettività. Insomma, attacca Squitieri, negli ultimi anni i provvedimenti in questo senso sono stati fatti a volte con l'accetta, tagliandosi sprechi, ma anche servizi ai cittadini, specialmente a livello locale. E cosa succede sulle unioni civili dopo lo stop, dopo che il provvedimento è fermo ai box, per usare l'immagine automobilistica dei Gran Premi? Sicuramente ci sono dei contraccolpi all'interno del partito, che ha fatto tutto nel bene e nel bene o bene, cioè tutto l'iter della creazione del provvedimento, poi la sua presentazione e poi anche il fuoco amico. Esiste un testo depositato, è scaduto il termine emendamenti, ne sono stati presentati appunto di vario tipo, ormai il testo si cambia votando. Chi non vuole l'articolo 5 sull'adozione del figlio del partner, voterà contro o a favore. Lo dice Monica Cirinna, lo conferma il sottosegretario alle riforme, Luciano Pizzetti. La parola stralcia è una bestemmia, poi ci sono i voti in aula. Nessun passo indietro o rinuncia del PD. Sulla stepchild adoption, l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale, si andrà alla conta. Forse con votazioni per parti separate, voto segreto sulla parte stepchild, del canguro Marcucci, il taglia emendamenti. Disorientato e spiazzato dalla due giorni di aula, che hanno trasformato in un pantano impercorribile, la corsa verso una legge sull'unione civili. Il PD tenta la ripartenza. Mille incontri oggi al Senato, colloqui e mediazioni, il sottosegretario Pizzetti, il ministro Orlando, il capogruppo Zanda, Anna Finocchiaro. Tessono le fila a partire da una ricomposizione dell'unità del gruppo DEM. Credono di potersenare la frattura con la fronda cattolica, anche scomunicando le frasi di Monica Cirinna contro i compagni di partito. Sto pagando le porcate di certi renziani in guerra, volevano un premietto, avevano aspettative nel rimpasto di governo, ha Sibilato in un'intervista. Parole origliate, si difende la senatrice senza smentirle. Comprendo l'amarezza, ribatte Zanda, ma sono necessarie compattezza e unità del gruppo, non alle insinuazioni infondate. E per Andrea Marcucci, chi rappresenta i diversi pareri sulle adozioni, come scontri personali dentro il PD, sbaglia e fa un cattivo servizio alle unioni civili. Non abbiamo bisogno di giudizi sommari e sbalzi d'umore. La sinistra DEM alza i toni contro ogni ipotesi di stralcio, sarebbe un colpo all'unità del partito e l'avviso a chi fosse tentato da ripartire dalla maggioranza di governo, dove il nuovo centrodestra offre di nuovo un patto a Renzi, purché si annacqui la legge. Con le maggioranze variabili, il PD va a sbattere, avverte Alfano. Discorso chiuso in ogni caso con i 5 Stelle, marchiati ormai dal PD come inaffidabili. Si aspetta l'intervento di Renzi, domenica all'assemblea del partito. Confermerà che si va avanti per portare a casa la legge, con o senza adozioni, lasciando la scelta al voto dei senatori. Fin qui, quello che succede sulle unioni civili, o quello che forse potrà succedere. Sicuramente c'è una parte della scena politica che è in subbuglio. È il centrodestra relativamente a uno degli appuntamenti elettorali più attesi, quello per il sindaco di Roma. Ora Bertolaso, a quanto pare, non va più bene a Salvini. E i contraccolpi sono quelli che stiamo per sentire. Su Bertolaso ascolteremo i cittadini romani, perché il parere che mi interessa è loro. Sceso a Roma per lanciare una grande manifestazione anti-Renzi il giorno della liberazione, il 25 aprile, Matteo Salvini riapre, a sorpresa, una partita che sembrava chiusa. Il nome di Guido Bertolaso, il candidato per il Campidoglio, indicato ufficialmente la settimana scorsa dai tre alleati, Salvini, Berlusconi e Meloni, torna improvvisamente in discussione. No, Bertolaso è il candidato proposto dagli alleati, a cui noi abbiamo detto sì, però, ripeto, fra il sì e le elezioni c'è di mezzo il parere dei cittadini romani. Diciamo che per un candidato che vuole vincere le elezioni con la Lega, dire che hai sostenuto Rutelli, che votaresti il PD e che i rom poverini vanno aiutati, non è il massimo come partenza. Il dietro fronte, il leader leghista, provoca un immediato cortocircuito nel centrodestra. Il vertice a tre a Palazzo Grazioli, che doveva fare il punto sulle candidature amministrative, salta dopo l'annuncio di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, che non avrebbe partecipato se Salvini non avesse prima chiarito la sua posizione su Bertolaso. Quasi un déjà vu. Otto giorni fa fu Salvini a far saltare l'incontro dopo che la Meloni aveva lanciato per Roma la candidatura, poi ritirata, della conduttrice Rita Dallachiesa, intercettata oggi all'uscita di Palazzo Grazioni. Nella guerra, tra i due giovani leader alleati, Berlusconi prova a mediare, chiamando al telefono Salvini e rilanciando su Bertolaso. Non è il candidato di un partito, ma deve essere di tutta la città. Conto sul buon senso dei romani e assicuro tutto il nostro sostegno, scrive l'ex premier. Quanto al vertice a tre è rimandato a data da destinarsi mentre volano le accuse. Salvini dimostra di aver perso la voglia di stare con il popolo e di disprezzare Roma. Attacca da fratelli d'Italia Rampelli. Abbiamo lavorato per dare a Roma e alle altre città un buon governo del territorio e per mandare a casa Renzi. Vorremmo sapere dagli alleati se hanno i nostri stessi obiettivi perché abbiamo assistito a troppi tentativi di sabotaggio. Fuori dall'alleanza, Francesco Storace, candidato della destra per il Campidoglio, attacca Meloni. Ha sbagliato a dire sì a Bertolaso o convinca Berlusconi a mollarlo. Raffaele Fitto, conservatori e riformisti, torna a chiedere le primarie per la scelta del candidato sindaco del centro-destra. Altrimenti vuol dire che Berlusconi ha scelto il cupio di Solvi, attacca Fitto, sostenitore a Roma della candidatura di Alfio Marchini, così come l'NCD. Lo spettacolo offerto dal centro-destra a Roma è semplicemente pietoso, dice Cicchitto, e induce ogni persona di buon senso a starne alla larga. del popolo italiano. Ma Roma è tante cose, è la capitale, è la città che ha vissuto l'onta di mafia capitale, della fine della legislatura comunale, le elezioni anticipate per il nuovo sindaco nella prossima primavera, ma anche la città del giubileo che vive giorno dopo giorno anche scoperte devastanti, come quella che stiamo per fare insieme. è un filmato non certo di qualche iniziativa di qualcuno che ha a cuore qualcosa di diverso dal bene comune. È un filmato che è stato preparato dall'UNICEF e su cui l'Espresso costruisce domani il reportage di cui vediamo alcune immagini. è una lunga sequenza di storie dolorose quella raccontata dall'Espresso in edicola domani con la collaborazione dell'UNICEF. La vita dei migranti minorenni accampati attorno alla stazione Termini di Roma a decine senza genitori hanno cercato un futuro in Italia contraversate durate giorni a bordo di barconi sgangherati sono arrivati da noi lasciando paesi disastrati ma soprattutto le loro famiglie tanti di loro una volta salvati dal mare spariscono solo nel 2015 si sono perse le tracce di 6.000 minorenni stranieri. Abdul è egiziano a 16 anni in Italia da 4 vive vicino alla stazione Termini trova riparo dentro piccoli tunnel sotterranei trasformati anche in bagni pubblici sono ancora un bambino dice Abdul mentre descrive l'inferno che attraversa gli espedienti per trovare cibo a volte truffando i turisti di passaggio a Roma il pericolo per lui e per gli altri che frequentano queste zone sono gli adulti in cerca di sesso a pagamento con ragazzini affamati e soli un paio di settimane fa ecco le immagini dell'arresto di un ingegnere inglese in vacanza nella capitale secondo gli inquirenti pagava minorenni per rapporti sessuali anche 3 o 4 volte al giorno a breve partirà un'unità dedicata di intercettare il disagio di questi minori attorno alla stazione Termina detto il prefetto di Roma Gabrielli sarà attiva dalla mattina alla sera 6 giorni su 7 negli ultimi anni sono in netto aumenti i ragazzi a volte solo bambini che vengono spediti verso l'Europa dagli stessi genitori in attesa di racimolare i soldi per tutti i componenti del nucleo familiare madri e padri mandano avanti i figli con la speranza poi di raggiungerli situazioni raggelanti situazioni che vedremo chissà ancora per quanto fino a quando non ci sarà qualcosa di drastico per una città come Roma che dovrebbe essere la vetrina l'emblema l'emblema d'Italia ma passiamo a parlare di una visita che sarà sicuramente comunque storica nell'ultimo giro d'orologio della sua presidenza Obama ha deciso tra un mese il primo giorno di primavera sarà a Lavana sono passati 88 anni dal 1928 dalla visita a Cuba di Calvin Coolidge l'ultima di un presidente americano tra un mese il primo giorno di primavera sarà Barack Obama a sbarcare a Lavana un viaggio ufficiale con tanto di incontro con Raul Castro ma a quanto si apprende non con Fidel a marcare ancora di più la ricucitura dello strappo storico provocato dalla rivoluzione del capodanno 1959 permangono molte differenze con il governo cubano dice il presidente statunitense e le solleverò direttamente l'America ha aggiunto difenderà sempre i diritti umani in ogni parte del mondo di fatto una risposta alle critiche piovute gli addosso fin dall'inizio del disgelo con Lavana l'annuncio del viaggio a Cuba di Obama poi piomba nel pieno delle primarie che dovranno stabilire chi correrà per succedere al primo presidente nero della storia primarie che in campo repubblicano vedono tra i favoriti due candidati di origine cubana ostili alla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi il primo è Ted Cruz senatore texano ultraconservatore beniamino di evangelici e tiparti che per la prima volta ha superato nei sondaggi nazionali Donald Trump e che ha definito un grave errore finché Castro è al potere il viaggio di Obama il secondo è Marco Rubio a questo punto viste le magre performance di Jeb Bush il preferito dall'establishment dei repubblicani la visita di Obama è assurda il governo cubano resta repressivo come sempre è una dittatura parole che arrivano a due giorni dall'importante voto repubblicano nelle primarie della South Carolina mentre tre giorni dopo sarà la volta dei caucus del Nevada ma dagli Stati Uniti arriva qualcosa di assolutamente inedito e per molti versi inaudito cosa è successo? che il Papa nel viaggio di ritorno dalla sua visita in Messico ha tenuto il solito botta e risposta con i giornalisti un giornalista gli ha chiesto di commentare le parole di Trump sul muro da erigere alla frontiera sud degli Stati Uniti col Messico e il Papa ha detto quello che ogni religioso dovrebbe potrebbe dire se interrogato a riguardo e anche non che chiunque costruisca muri e non ponti non è un buon cristiano quello che nessuno poteva immaginarsi è che Trump gli avrebbe risposto con durezza da una parte il Papa dall'altra il candidato repubblicano Donald Trump in mezzo scintille di un tipo di un'intensità mai viste è tutto per la visita di Francesco ieri al confine tra Messico e Stati Uniti con parole di sostegno ai migranti che vogliono raggiungere l'America quel confine dove più volte Trump ha detto di voler costruire un muro di 2500 chilometri una persona che pensa soltanto in fare muri sia dove sia e non fare ponti non è cristiano il Papa sta mettendo in dubbio la mia fede sono sorpreso ha detto Trump durante un comizio io sono cristiano e sono orgoglioso di esserlo il milionario candidato repubblicano poi continua su di un doppio registro da un lato dice che il governo messicano lo stesso che spinge disgraziati e trafficanti verso gli Stati Uniti ha parlato male di lui al Papa usandolo come una pedina gli hanno raccontato che non sono una bella persona gli hanno raccontato solo una parte della storia sull'immigrazione non gli hanno detto che chi entra negli Stati Uniti legalmente porta droga e violenza e che questo ha un impatto economico io sono per l'immigrazione ma legale dice Trump che però poi bolla come vergognosi i commenti del Papa che già sei giorni fa in un'intervista aveva definito molto politicizzato ma grazie a Dio che ha detto che io sono politico perché Aristotele define la persona umana come animal politicus almeno sono persona umana ma il duello non finisce qua man mano che il pontefice parlava Trump impegnato in un comizio riceveva i foglietti con le dichiarazioni papali ad alta quota e le commentava fino alla stoccata finale tutti sanno che l'obiettivo ultimo dell'Isis è attaccare il Vaticano e il Papa dovrebbe pregare che io diventi presidente perché così questo non accadrà ecco sto guardando le ultimissime notizie e ce n'è una che arriva proprio dal vertice dal contrastatissimo e importante vertice di Bruxelles Cameron ha usato parole molto molto forti dicendo ai suoi colleghi ai leader europei bisogna vivere e lasciare vivere per evitare l'uscita della Gran Bretagna attraverso il referendum dall'Unione Europea vi devo dire ancora delle borse perché oggi è stata una giornata in cui Milano è finita pesantemente in negativo meno 1,53% a differenza della quasi totalità delle altre borse europee a pesare ancora una volta le banche in assenza di accordi o iniziative o normative che tutelino i nostri istituti di credito ma la situazione in questo momento è negativa anche a Wall Street infatti in questo momento il Dow Jones sta perdendo ma soltanto pochi centesimi lo 0,04% è più pronunciata il negativo del Nasdaq meno 0,70% dopo di noi gli ospiti di Lilligruber a 8,5% siccome giovedì uno lo sappiamo già Marco Travaglio l'altro è il ministro della salute Beatrice Lorenzin poi a Piazza Pulita con Corrado Formigli ci sono Emma Bonino Elsa Fornero Luigi Abete Oscar Giannino Tommaso Montanari Rocco Hunt Pietro Parisi Antonio Marfella Sergio Cofferati Luigi Marattin Alessandro De Angelis noi ci fermiamo L'ultima notizia arriva dall'Egitto riguarda l'uccisione di Giulio Regeni secondo un quotidiano filo governativo di El Cairo Giulio Regeni sarebbe stato ucciso da agenti segreti sotto copertura molto probabilmente appartenenti alla confraternità dei fratelli musulmani per imbarazzare il governo egiziano la fonte aggiunge anche che il procuratore egiziano e la sua controparte italiana stanno raccogliendo tutti gli elementi possibili per individuare l'autore del crimine tutte ovviamente rivelazioni indiscrezioni anticipazioni da prendere con le pinze letteralmente ma l'indagine prosegue ci sono tentativi di intossicarla e di annebbiarla ma speriamo proprio di saperne qualcosa l'importante è tenere e duro e pretendere prove e verità gruber poi formigli buonasera domani grazie a tutti